Parte da Gatteo l'edizione 2018 della settimana internazionale Copi Bartali di ciclismo che quest'anno si avvale della partnership della regione Emilia-Romagna. Al via il 22 marzo e fino al 25 con arrivo a Montegibio, a Sassuolo, non mancheranno i big del ciclismo internazionale che con le loro squale calcheranno la strada emiliano-romagnole. Il ventesimo anno quest'anno pertanto ha assunto una caratteristica qui in Italia veramente importante, tant'è che sta richiamando anche tante squadre estere di valore eccellente. Il 21 di marzo ci sarà la verifica licenza a Riccione, il 22 è la prima semitappa al mattino, il 22 pomeriggio la seconda semitappa a cronometro, sempre a Gatteo, mentre il 23 è la Riccione-Sogliano, una classica delle quattro giornate, è la classica per Antanomasia che è la più dura. Ci trasferiamo qui nel Bolognese a Crevalcore per fare una corsa adatta ai velocisti, mentre l'ultimo giorno da Fiorano-Modenese a Montegibio-Sassuolo è una crona individuale molto severa che determinarà senza altro la classifica generale. Abbiamo voluto realizzare insieme con gli organizzatori la maglia che verrà indossata dal leader della classifica, ha dichiarato il presidente della regione Stefano Bonaccini, che si è detto soddisfatto per la collaborazione siglata con la società che promuove il giro. Grazie.